Partiamo dalla serie B e dalla partita in programma tra Bari e Lecco perché è collegato con noi il patron dell'Ecco, Paolo Di Nunno. Esatto, domenica a Rigamonti Ceppi si gioca per la quindicesima giornata di campionato. Abbiamo il piacere di avere con noi il patron, amministratore delegato dell'Ecco. Buonasera Paolo Di Nunno, buonasera. Buonasera. Le chiedo intanto come sta, visto che sappiamo che purtroppo ha avuto settimane non semplici, sappiamo che però è in ripresa. Sì, cammino appena appena, ma cammino. E questo è importante, questo è importante. Un bel cammino, presidente, posso chiamarla presidente perché nell'ambiente il riferimento all'Ecco è Paolo Di Nunno. Un bel cammino è quello dell'Ecco, un cammino che è diventato spedito dopo chiaramente prime giornate di acclimatamento nel campionato di serie B, arrivate da questo pareggio nel derby con il Como. Le chiedo un po' se anche quello con il Bari lo vive come un derby o come una partita speciale, lei lo ricordiamo, a radice a Canosa di Puglia. Sì, io sono di Canosa di Puglia, nato a Canosa, però vivo a Milano da 56 anni, 57, sono diventato milanese, diciamo, non milanese. Sono di Canosa ma vivo qua e mi sei di Cormano, non sono di Milano ma Cormano, Cormano è legato a Milano. Sappiamo, sappiamo, come vive l'avvicinamento, presidente, a questa partita con il Bari comunque, una delle squadre più blasonate del campionato di serie B? Ma io la vivo come ho vissuto le altre partite, per me sono tutti uguali, noi cercheremo di vincere con tutti, mi dispiace, noi ci dobbiamo salvare e non abbiamo chi dobbiamo perdere e noi ce le giochiamo tutte le partite. Se vinciamo, vinciamo, se perdiamo, perdiamo, però noi cercheremo di vincere, sempre. Ecco, presidente, arrivata questa partita separati da 5 punti dal Bari, un Bari che sta andando un po' a rilento rispetto alle attese anche nel paragone con la scorsa stagione. La svolta nell'Ecco c'è stata anche con il cambio di guida tecnica, cioè quella è stata una scossa all'interno dello spogliatoio, intanto mentre parliamo stiamo vedendo la classifica. Sì, la scossa c'è voluta perché abbiamo cambiato l'allenatore, che abbiamo cambiato l'allenatore e poi abbiamo messo su un altro allenatore e con lo stesso secondo che è Malgrati. L'allenatore all'Ecco, lo ricordiamo che Emiliano Bonazzoli, vedevamo anche scorrere un po' di foto della partita contro il Como. Le chiedo, presidente, anche voi avete un che ha costruito la squadra, è Pugliese, Domenico Fracchiolla, che è tornato all'Ecco dove aveva già avuto esperienza e lo ha fatto per misurarsi con la Serie B, ha iniziato il mercato a Francavilla, l'ha chiuso all'Ecco, le chiedo anche un po' il rapporto con Fracchiolla e poi avete un po' di giocatori che la Puglia la conoscono, penso all'Epore, penso a Saracco, ma ci parli un po' del rapporto con Fracchiolla, che tipo di rapporto c'è tra voi? Siamo come amici, non è che c'è un rapporto tra direttore sportivo e presidente, quando ci vediamo siamo amici e basta, non c'è un distacco tra presidente, direttore sportivo, questo e quest'altro, ma poi noi siamo amici con tutti, anche con tutta la squadra, noi la viviamo, quando ci siamo viviamo tutta la squadra uniti, come una famiglia, come abbiamo vinto l'anno scorso i play-off, perché era una famiglia, non che poi ci hanno mangiato tutto, ecco, quello è stato, diciamo, questo è il play-off dell'anno scorso. Eh sì, questa è la partita, l'Ecco Foggia del 18 di giugno, presidente, ci sarà al Rigamonti Ceppi anche una folta rappresentanza, praticamente sold out, il settore ospiti, sarà una partita comunque da ricordare, immagino, una delle belle partite, voi in casa avete battuto per esempio il Parma, però immagino che queste partite, al di là di come vanno a finire, poi una presidenza se le ricordi, uno stadio pieno, una partita contro una squadra blasonata. Lo stadio noi abbiamo già i nostri tifosi, che sono parecchi, abbiamo tanti abbonamenti, anche perché lo stadio non è lo stadio di Bari, lo stadio nostro ci stanno 5 mila persone, quello ci sono, non è che se ne stanno di più, come c'erano ieri 5 mila persone a Como, non è che a Como ieri c'erano 50 mila o 20 mila, anche se hanno gli stadi grossi, ma però sono ristretti, chi ha la curva che non si può giocare, chi c'ha qua, chi c'ha qua, non avevamo là, abbiamo dovuto fare una spesa enorme, però in un mese e mezzo siamo rientrati nel nostro campo. Dopo tutto il casino che è avvenuto ad agosto, come ha un caduto, mi sono fatto male e poi sono andato in Como e poi tutto quello che è successo. Siamo contenti però Presidente di vederla meglio, di vederla sicuramente sempre più in salute. Le chiedo come ultima battuta se c'è un giocatore che secondo lei nell'Ecco può essere domenica all'uomo partita e se c'è magari un giocatore che del Bari le piace particolarmente? Io del Bari non mi interessa né di giocatore né di quello né di niente, a me mi piacciono i miei giocatori, io amo i miei giocatori, noi abbiamo un centrocampo di ragazzi che sono forti, ieri l'abbiamo visto, il Como e voi, noi abbiamo tutta la squadra che costa come il Como di due giocatori. Noi abbiamo una squadra di 20, che è 18, 19, quelli che sono, che costa uguale a due giocatori del Como. Abbiamo detto tutto. Non è che abbiamo fatto le pazzie, abbiamo fatto qua, abbiamo fatto le pazzie ad aggiustare il campo, abbiamo speso un milione e tre, perché? Perché? Per fare, per non andare a giocare, spendere 50, 60 mila euro andare a Padova ogni domenica, ogni sabato, ogni venerdì, quando si gioca. E allora abbiamo dovuto accelerare i tempi pagando straordinari, questo e quest'altro, a quello delle luci, a quello di Skype, per mettere tutto quello che bastava, che la Lega ci obbligava a fare. Tutto chiaro, tutto chiaro, Presidente. Noi le auguriamo un buon percorso in campo e ovviamente anche di guarigione. Ringraziamo il Lecco e lei per la disponibilità. Buona serata. Grazie, grazie a voi e a tutti quanti gli spettatori. Grazie, grazie ancora Paolo Di Nunno. Dall'altra parte, o meglio guardando chiaramente ancora all'Ecco Bari, salutiamo intanto il Presidente.